Nella nuova e avvincente ottava stagione di Il Paradiso delle Signore, gli spettatori saranno testimoni di un colpo di scena inaspettato ed emozionante. In un intreccio di eventi sorprendenti, Matilde e Vittorio si ritroveranno di fronte a una scoperta rivoluzionaria che riguarda il loro futuro insieme. In un momento decisivo, Vittorio apprenderà una notizia straordinaria. Presto diventerà padre, un evento che cambierà per sempre la sua vita. Prima di immergerti in questo video, assicurati di iscriverti e di attivare le notifiche. Grazie. Negli episodi più recenti di Il Paradiso delle Signore, abbiamo assistito alla drammatica conclusione del matrimonio di Matilde e Tancredi. La verità sul coinvolgimento di Tancredi nell'incendio del mobilificio Frigerio è venuta alla luce, spingendo Matilde a rompere ogni legame con lui. Nonostante le sue ripetute suppliche di perdono, Matilde ha preso la decisione irrevocabile di lasciarlo, segnando un punto di non ritorno nella loro relazione. Per Matilde, però, non è stato facile riaprire il suo cuore a Vittorio. Il fatto che Vittorio fosse già a conoscenza delle malefatte di Tancredi, ma non le avesse mai confidate, ha creato un ostacolo tra loro. Tuttavia, i prossimi episodi promettono un cambio di rotta inaspettato. In un gesto di amore e disperazione, Vittorio raggiunge Matilde proprio mentre sta per partire per il Giappone, una fuga pensata per lasciarsi tutto alle spalle e le rivela tutto il suo amore. Colpita dalla profondità e sincerità dei sentimenti di Vittorio, Matilde decide di dargli una nuova possibilità, iniziando così una nuova e appassionata relazione. Nel frattempo, Matilde inizia le pratiche legali per annullare il suo matrimonio, supportata dal suo fedele avvocato. Da parte sua, Tancredi, consumato dalla rabbia e dal desiderio di vendetta, inizia a tramare contro Matilde, la donna che ha osato lasciarlo. Nel corso degli episodi, la storia d'amore tra Vittorio e Matilde sboccia completamente, diventando presto di dominio pubblico. I loro amici, una volta informati, manifestano gioia e supporto per la nuova coppia, celebrando la loro unione e il nuovo inizio. La storia di Vittorio e Matilde si trasforma in un racconto di amore, speranza e nuovi inizi, segnando un capitolo entusiasmante nella serie Il Paradiso delle Signore. Le ultime anticipazioni che trapelano dal set di Il Paradiso delle Signore rivelano un futuro ricco di emozioni e svolte inaspettate per i protagonisti. Al centro della scena, Vittorio e Matilde, la cui relazione intensa e appassionata, sembra destinata a un cambiamento significativo. Secondo Gilly Spoiler, emerge una rivelazione sconvolgente. Matilde è incinta. Vittorio, quindi, si troverà presto ad abbracciare il ruolo di padre, un sogno che aveva già accarezzato durante il suo matrimonio con Marta. Questa gravidanza, tuttavia, potrebbe non essere un percorso tranquillo. Marta, tornata a Milano in compagnia di Adelaide, potrebbe rappresentare un ostacolo inaspettato per la neoformata coppia. La sua presenza potrebbe introdurre complicazioni e tensioni inaspettate tra Vittorio e Matilde. Inoltre, c'è Tancredi, il cui malcontento per la gravidanza di Matilde potrebbe manifestarsi in modi inquietanti. Già in procinto di presentare una denuncia per adulterio come forma di vendetta, Tancredi potrebbe intensificare i suoi sforzi per disturbare la serenità di Matilde e Vittorio. Questa gravidanza promette di essere un periodo di grande tumulto per Vittorio, che si ritrova a confrontarsi con il ritorno di Marta, suscitando in lui una tempesta di sentimenti e ricordi. Il suo cammino verso la paternità sarà intriso di sfide emotive e scelte difficili. La domanda che rimane sospesa nell'aria riguarda la posizione di Marta in questo complesso intreccio di relazioni. Da che parte si schiererà a lei in questa intricata rete di relazioni e sentimenti? E voi, spettatori, cosa ne pensate? Siete entusiasti all'idea di vedere Vittorio diventare padre? Quali saranno le prossime evoluzioni in questa storia appassionante? Aspettiamo i vostri commenti e riflessioni!